Musica Non sussiste l'ipotesi di incompatibilità per il consigliere comunale Salvatore Zavarella. Lo ha messo nero su bianco a caratteri cubitali l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, in merito alla segnalazione pervenuta nei mesi scorsi all'organismo di controllo. A Zavarella veniva contestato il presunto conflitto di interessi tra la sua posizione alla sacca e il suo ruolo di consigliere comunale, anche alla luce del contenzioso che pende all'interno della stessa società partecipata per via della causa intentata da Zavarella riguardo il più alto livello di avanzamento in azienda. L'ANAC ha chiesto quindi le delucidazioni del caso. Tenuto conto delle funzioni concretamente e specificatamente attribuite, così come esplicitate dalla società sacca e dal diretto interessato, si ritiene che l'incarico di responsabile dell'area tecnica operativa esaminato non sia assimilabile alla categoria degli incarichi dirigenziali e che conseguentemente non sia integrata la fattispecie di incompatibilità, scrive l'ANAC che chiarisce ogni dubbio. Nella delibera viene quindi accertata l'insussistenza di ipotesi di incompatibilità tra la carica di assessore o componente del Consiglio Comunale di Sulmona e l'incarico di responsabile dell'area tecnica operativa presso la società sacca, quindi non è stato incompatibile nemmeno in passato. Il parere ANAC è stato notificato e diretti interessati a coloro che avevano chiamato in causa l'autorità anticorruzione. Sulla vicenda ne è passato e era intervenuto anche il PD. Rifugiati dell'Ucraina nella casa Zaccheo della diocesi, la Caritas diocesana di Summona Valva si sta attivando per far fronte alla possibilità di accollire i cittadini ucraini in fuga dalla guerra, in collaborazione con il piano predisposto dalle prefetture e dalla protezione civile. Di concerto con gli enti pubblici locali, la diocesi di Summona Valva ha messo a disposizione la struttura di casa Zaccheo in via Porta Romana per accogliere i cittadini ucraini segnalati dalle autorità competenti, a seguito della sorveglianza attiva di 5 giorni, obbligatoria per legge. Dopo un primo contributo di 2.000 euro già inviato, la Caritas diocesana prosegue la raccolta fondi in aiuto della popolazione ucraina, distrutta dalla guerra, messa a dura prova in questi giorni. Da mercoledì delle ceneri, ovvero dall'inizio della quaresima ad oggi, sono stati raccolti altri 5.210 euro, continuano ad arrivare offerte da parrocchie privati. La raccomandazione per i privati è di non seguire una logica fai-da-te, ma di attenersi alle disposizioni in atto per l'accoglienza dei profughi e la gestione sanitaria degli stessi. Non erano in due a bordo dell'auto, ma in tre. Un particolare non di poco conto, che sarebbe emerso solo in queste ore, in riferimento all'arresto per droga, eseguito lo scorso 20 febbraio a Prato-la-Pelinia, dopo un rocambolesco inseguimento per le vie della cittadina. Una Fiat punto di colore blu, notata dai carabinieri che stavano svolgendo servizio di controllo del territorio, avrebbe urtato un'altra auto in transito al fine di eludere il controllo dei militari. Nella vettura sono stati rinvenuti 80 grammi di marijuana, conservati nello zaino di proprietà di un 22enne del posto SS, tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, per essersi reso cioè responsabile di una guida pericolosa, per giunta senza patente. Nel corso dell'operazione è stato denunciato anche l'amico 19enne per aver consegnato spontaneamente circa 12 grammi della stessa sostanza all'atto degli accertamenti del caso esperiti in caserma. All'appello però mancherebbe una terza persona che era a bordo dell'auto condotta dal 22enne che dopo lo scontro sarebbe riuscita a dileguare facendo perdere le sue tracce. Avrebbe dato sfogo alla sua libidine masturbandosi sulle scale del condominio dove è situata la sua abitazione anche davanti a una ragazzina ma era incapace di intendere e volere al momento dei fatti. Per un 32enne di Sulmona, GLG, le sue iniziali, è arrivata oggi la sentenza di un luogo a procedere pronunciata dal giudice per le odienze preliminari del Tribunale di Sulmona, Marta Sarnelli. Per lui la procura aveva chiesto il processo mentre il giudice, recependo l'istanza dell'avvocato difensore Alessandro Scelli, ha disposto una perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e volere del giovane al momento dei fatti che sarebbero avvenuti da gennaio ad aprile 2020. Per ben tre volte, secondo l'accusa, il giovane avrebbe posto in essere gli atti osceni. Un caso particolare che gli è costato la contestazione dell'aggravante del reato si sarebbe masturbato davanti a una ragazzina. L'inquilini hanno quindi segnalato il caso alle forze dell'ordine per i giovani si è aperto il procedimento penale a suo carico. Il perito incaricato, Paolo Pomero, ha accertato l'incapacità di intendere e volere del giovane al momento del fatto, legato essenzialmente a una terapia sbagliata che all'epoca seguiva il giovane e che dopo essere stata cambiata ha notevolmente migliorato le sue capacità, oggi del tutto normali. Una diagnosi che scaggiona, di fatto il 32enne del reato a lui ha scritto lo stesso è stato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere. Si batte casse a Palazzo San Francesco e il comune di Sulmona deve incassare ancora 243 mila euro un bel gruzzoletto. Sono infatti 953 cittadini residenti e non solo che nel 2019 sono stati multati nel territorio comunale, non hanno ancora provveduto a pagare la sanzione amministrativa, molti altri multati per aver violato la zona traffico limitato per non aver pagato la sosta sulle strisce blu o per aver commesso altre infrazioni. Hanno quindi deciso di saldare subito il conto di approfittare della riduzione prevista della legge se si paga entro 60 giorni. Per i ritardatari si batte cassa. Le sanzioni amministrative relative alla violazione del codice della strada a distanza di ben tre anni sono destinate a lievitare e occuparsi dei pagamenti dovrà essere l'agenzia delle entrate. Il comune di Sulmona, nell'ambito del piano esecutivo di gestione per esercizi finanziari 2021-2023, ha quindi affidato al comandante della polizia locale, Massimiliano Giancaterino, il compito di fare il punto sulla situazione. Dalle verifiche effettuate dagli addetti del settore è emerso che ci sono oggi 166 mila euro di sanzioni del 2019 non saldate. A questo vanno aggiunti poi 65 mila euro di interessi maturati in questi tre anni e le spese di accertamento e notifica delle sanzioni amministrative che ammontano a 12 mila euro. Un totale, come detto, di 243 mila euro che il comune di Sulmona conta di incassare grazie al coinvolgimento come da normativa dell'agenzia delle entrate. Per prassi le sanzioni del codice della strada devono essere pagate entro 60 giorni in misura ridotta, spiegano da Palazzo Mazzara. Se non si pagano vanno iscritti al ruolo, cioè l'ente forma un elenco dove vengono inseriti tutti i debitori e le somme che deve avere da ciascuno. È una straordinaria giornata di solidarietà. Gli aquilani hanno risposto in maniera davvero massiccia, numerosa e questo sta a dimostrare il grande cuore di questa città che restituisce in parte tutta la solidarietà che ha ricevuto dopo il terremoto. Noi sappiamo cosa significa abbandonare tutte le proprie cose, noi sappiamo cosa significa vedere la casa distrutta in un attimo, noi sappiamo cosa significa dover abbandonare la propria terra ed è per questo che qui oggi stiamo anche dicendo un chiaro no alla guerra. Siamo qui per pace, non per guerra. Gli alpini come sempre ci sono e tutti insieme diciamo no alla guerra. Gli alpini come sempre ci sono un'interlocuzione serena e cordiale che ha lasciato spazio alle numerose questioni che interessano il territorio provinciale. Oggi il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio ha incontrato così il presidente della provincia dell'Aquila Angelo Caruso altri amministratori e dirigenti. Si tratta della prima visita istituzionale in provincia dopo le elezioni per il rinnovo consigliare. Era una doverosa visita istituzionale, le province sono state negli ultimi anni molto bistrattate, hanno rappresentato per molti versi l'oggetto di una polemica contro le istituzioni, i presunti sprechi. Il loro ruolo invece soprattutto nelle realtà di montagna, nei piccoli centri diventa insostituibile come strumento di coesione del territorio, di rappresentanza di tanti piccoli centri, anche di sostegno a tanti piccoli comuni che non hanno da soli la capacità amministrativa e organizzativa per affrontare temi che invece riguardano aree più vaste. Per questo noi abbiamo attivato sin da subito con l'Unione delle Provincie Abruzzesi guidata dal presidente della provincia dell'Aquila Caruso un confronto per rimettere a posto alcune rispettive e reciproche competenze cercare di rimediare ai danni fatti dalla legge del Rio che ha svuotato di risorse più che di competenze le province la Regione non a caso spesso è costretta a mettere nella propria programmazione economica parecchi fondi in particolare sulla manutenzione delle strade perché le province non hanno assolutamente la possibilità altrimenti con i fondi che gli riserva lo Stato di poter mantenere questo patrimonio efficiente ed in funzione quindi c'è insomma un interscambio, una collaborazione e oggi siamo qui per approfondirlo. La visita del presidente Marsilio oggi rappresenta una pagina importante un nuovo percorso ma un percorso già avviato con grande attenzione che la Regione guidata dal governatore Marsilio ha già riservato alla provincia dell'Aquila e alle altre province abruzzesi da un punto di vista economico, finanziario e anche supportando tante azioni che noi abbiamo messo in campo che poi hanno raccolto il sostegno e quell'azione decisiva della Regione Abruzzo. Noi siamo davvero orgogliosi di averlo qui con noi oggi si rinsalda un rapporto, quella è un'alleanza istituzionale fondamentale anche per quella che è una nuova articolazione di funzione e competenze per le quali esiste già una valida e importante interlocuzione che probabilmente sfocerà in qualcosa che verrà ridefinito a livello di Consiglio regionale. E infine film in programmazione nella multisala Ejoland di Corfinio The Batman con due proiezioni 17,50, 21 e 10 c'era una volta il crimine, due proiezioni 18,10, 21 e 10 The Batman con due proiezioni 18,50, 21 e 10